Eccomi qui di nuovo con voi sempre su Jazz Convention on TV. La real interview di questa settimana è dedicata a Renaud Garcia-Fons. L'intervista è stata registrata da Fabio Ciminiera in occasione del concerto tenuto a Pescara Jazz Off del contravassista francese. Il disco che la redazione di Jazz Convention ha selezionato questa settimana nello spazio Scelti per voi è Scenografie, lavoro realizzato dal contravassista Jesper Bodilsen, alla guida di una formazione composta da musicisti italiani e danesi. Tra gli articoli pubblicati negli ultimi giorni vi segnaliamo il reportage del concerto palermitano di Mike Stern, scritto da Aldo Del Noce. I banner nella home page di JC News relativi ad Improvvisazione Jazz Consapevole, il nuovo libro di Marco Di Battista, rimandano all'intervista audio presente sul sito in cui il pianista illustra il metodo didattico e il complesso dell'opera. Le recensioni che potrete raggiungere dalla home page questa settimana sono Come di consueto vi invitiamo a seguirci su www.jazzconvention.net e sulle pagine dei principali social network per scoprire gli aggiornamenti sempre nuovi presenti sul sito, come le notizie relative ai concerti presenti nell'agenda e nei comunicati. Con questa puntata si chiude la prima serie di JC Weekly, l'appuntamento è per la prossima serie che prenderà il via in autunno.